Due condanne e quattro assoluzioni. Questo è l'esito del processo riguardante la morte di Gino Triolo, avvenuta il 30 dicembre 2008 all'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona. Il giudice monocratico del Tribunale di Barcellona, Fabio Gugliotta, ha condannato i medici Carmelo Rizzo ad un anno di reclusione e Maria Antonetta Giuffrida a quattro mesi di reclusione. Rizzo, che era in servizio al pronto soccorso, e Giuffrida, cardiologo, che hanno beneficiato della pena sospesa, sono stati inoltre condannati con l'ASP di Messina a risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale di 25.000 euro per ognuna delle parti civili costituite in giudizio. Assolto, perché il fatto non sussiste, Giuseppe Crinò e perché il fatto non costituisce il reato, Sebastiano Imbesi, Antonio Bonvegna e Francesco Calabro, tutti i medici in servizio al reparto di medicina dell'ospedale barcellonese. Le indagini furono curate dal sostituto procuratore della Repubblica di Barcellona, Francesco Massara, che per tutti aveva richiesto rinvio a giudizio per omicidio colposo. Secondo l'accusa non si sarebbero adoperati con accertamenti e con un successivo trasferimento del paziente in un altro ospedale più attrezzato, in modo da eseguire un intervento chirurgico ed evitare la morte. Il collegio della difesa è stato composto dagli avvocati Pinuccio Calabro per Imbesi e Crinò, Nino Larosa per Giuffrida e Calabro, Uglielmo Danna per Rizzo e Nino Presti per Bonvegna. Grazie.